Ciao a tutti ragazzi sono CyberDix in questo nuovo video sono qui a giocare su... Con un buggato Con un buggato Su Minecraft Exit Che in pratica sarebbe, spiega che cazzo è Una serie moddata, è un pacchetto moddato Del Technic Launcher Ma perché lagg... ah no non sta laggando No no sta laggando Sta laggando un bel po' sta laggando È un Minecraft con le mod, dove cazzo vai? Per un tuffo La tua skin è buggata però Eh no, dovrei ritrovare un'altra Che non si è buggato Ok allora prima di tutto Oh vieni qua, vieni a vedere, guarda Non lo so lagghi tantissimo Eh ecco sì infatti, lo sto notando anche io Perché c'è un orso in una caverna? Punto, non lo so Senti che lo colpiamo Oh mi ammazzo, aiuto Che cosa c'è? Niente, niente Buona uccisione, guarda Aiuto, aiutami Comunque non c'è il pvp, non ci possiamo colpire, che bello Allora, prima di tutto ci siamo presi questo Che non so cosa serva E neanche questo Small Earth Allora, io voglio fare una cosa Vorrei andare Oh, chi cazzo è che mi uccide? Eh, mi sa l'altro orso A caso A caso Ok, allora ascolta Oh, mi sta buggando tutto Mi si sta buggando Ok Vorrei raggiungere Oh, ma chi è? Ma basta Eh sì, è l'orso Te l'ho detto Ma fa culo Allora, senti Prima che mi ammazza l'orso Seguimi Seguimi Se ci riesco È partita una musichetta di merda, Craft Aspetta Ecco Levati Ok C'ho tipo tutti i suoni altissimi Devo abbassarti Ok Allora Vorrei raggiungere la terra La vedi la terraferma, lì? Beh La voglio raggiungere Ma hai No, l'acqua Lì, da quella parte C'è la terraferma Non la vedi sulla mappa Sì, ma se vedi sulla mappa Poi c'è acqua Cioè, c'è Sì, è acqua No, e voglio raggiungere la terraferma Con l'acqua Ah, ok, va bene Prima dobbiamo raggiungere quella terra, lì Ce la faremo La mappa è buggatissima No, qua c'è la vecchia mappa Di quell'altro server Ah No, allora, in pratica, ragazzi Non lo so tu cosa vedi Tu quindi non vedi terra Io vedevo tanta terra Io adesso dove sto andando adesso Sto vedendo un albero Allora no, senti Torniamo indietro Andiamo dove stanno queste sequoie qua E ci rimaniamo qua Cioè, scusami In pratica, lì Io in pratica vedo sulla mappa La terra Che stava prima Della vecchia mappa memorizzata Guarda Cioè, poi ti facci vedere Poi ti rivedi il video E vedi cosa cazzo vedo Quindi Dobbiamo fare Visto che stiamo giocando su Merdacraft Dobbiamo fare le cose base Di Merdacraft Prima di andare all'avventura E fare minchiate Eh, ci mancherebbe Però prima No, io devo andare Allora, qua mi pare che ci sia la mod Che tagli un albero E cadono tutti gli alberi Quindi abbiamo bisogno Prima di un accesso Non soffiare Hai urlato tantissimo E hai urlato Non sto soffiando Stavo per dire sì Però Con questo lag Tagliare le sequoie È come dire Praticamente far esplodere qualcosa Cioè, una bomba atomica Non so Adesso c'è uno zombie Però che mi ammazza No, ancora no Ancora non mi ammazza Ok, ora mi sta ammazzando Ah, sei là tu Io sono rimasto indietro Eh sì Puoi farti il tp Oh, cazzo Ora mi ammazzerà Perché lagga Aiuto Ah Arrivo Ok, ok L'ho ammazzato Sì, facciamoci sto cazzo D'accetta Così tagliamo un albero E facciamo una casa No Ma perché Ma stanno lì Ah, no, no Non è lo stesso albero Che stavo tagliando io Non è l'albero, no Sempre sequoia È questa No, abete Abete, abete rossa Abete Senti, io mi faccio La banco da lavoro Ok Sto morendo letteralmente di fame Oh mio dio Che cosa brutta Mangia, mangia, no E cosa cazzo mangio Non lo so Mangiati in un braccio Non lo so Strappati un braccio Allora, ma faccio qualcosa Io prima di tutto Uccido un albero Rob Guarda, guarda Ora uccide Guarda, ora cade tutto Attenzione all'inventario Io non lo so cosa è successo Però Oh, sto esplodendo Calma Sto esplodendo Piovono Piovono Vabbè Piove lag Piove Guarda, ancora si deve spacchettare tutto Oddio Spacchettamento epico di una sequoia Ah no, si è fermato Ah, si è fermato? Eh sì, perché ora diventerà mini mini sequoia Allora, io ho fame Perciò prima di tutto mi faccio un'altra accetta Perché giustamente se ho fame mi faccio un'accetta Dopodiché quando muoio Mi faccio lo spawn point qua adesso Ecco qua Ecco qua Così se muoio rispauno qua Come i veri stronzi Non avevo intenzione di Prendere e utilizzare il trucco della game rule Per non perdere Per perdere tutto Perché Sarei troppo bastardo In quel caso Non voglio utilizzare Voglio giocare così In difficile In questo modo Difficile La OHC proprio Sì brava Ma tu ce l'hai fatta Meno a rompere una Io ho tipo l'inventario pienissimo adesso Ancora non ho Cioè ancora non è sverginata la accetta qua Insomma E dove ci facciamo una casetta? Ce la facciamo qua? Eh Facciamocela qua Allora io già sulla mappa vedo roba strana Lasciando stare le cose buggate Perché No adesso tu vieni qua Perché c'è la pietra rossa in superficie? Perché qua c'è la mod Che mette la pietra rossa in superficie Allora Ah Allora attenzione Sto per morire Ok Ora faccio una bella cosa Con la legna che abbiamo Ci facciamo una cazzo di barca Perché in pratica Nella mappa Per quanto sia buggata Riesco a vedere una casa In lontananza Già creata Quindi noi ci andiamo a sedentare lì Senza che ne facciamo una Eh vabbè Fai piovere lag tu Vabbè Comunque ci siamo capiti Ah se muoio Non mi rispauna la vita Bene Ok Però c'è la tomba Con silver di x Palla Ok Dobbiamo andare Dobbiamo andare verso Segui a me Segui a me tu Io mi faccio una barca Fatela per te Ce l'hai la legna Eh grazie Basta spaccare alberi Ancora cade Lo sto spaccando Sì però No il banco di lavoro È pure inutile Che ce lo portiamo Ce l'abbiamo dirle Sì sì Ce l'abbiamo la legna Ok andiamo avanti Ok aspetta Ok seguimi Vado a queste Sono le barche vecchie Aspetta No dove vai Tipo io vedo qua Il braccio nero Mi sono incastrato Aspetta Ok Segui a me Seguimi Evitiamo di scontrarci Perché tanto lo sai Che sennò si distrugge Tipo la Sì si distrugge tu Seguimi tu Vediamo se mi stai seguendo Sì sanno tantissime robe Se vuoi Qua puoi prendere tutto Qualche vuoi E questo è il bello di stamorti Cioè comunque Molto avventurosa Allora Siamo arrivati a questa casa La vedi? No Eh io sì Allora se mi raggiungi La vedi Dai che stai Io ti vedo ancora là dietro A dire il vero Eh vabbè Cioè vedo solo la barca Però Vabbè tu vedi la barca Basta che mi segui Non so come cazzo si scenda Da sta merda Eh si doveva rompere Ma non si rompe Aiuto Ecco Morto Come è morto Eh mi ha fatto il connexionio No Ok siamo riloggiati Ok oh si è rotta la barca Sì Ah è una casa di villager Quindi una Una zona di villager No Eh beh No dove stai tu Dove cazzo stai volando tu Allora fammi Fammi Dove cazzo sto volando Fammi il tipo Ah ti vedo Ti vedo Vabbè ti faccio il tipo Ah non è di villager No è una casa normale Ho detto qua stanno case normali Ah Allora io vorrei insediarmi qui Però è un'isola A quanto ho capito È un isoletto Un isolotto di merda Vabbè tanto ci abbiamo Abbiamo alber Cioè sì Albar Alborcelli Alborcelli Eventualmente comunque Piazzare Senti vieni dentro Io faccio spawn point Fatti pure tu il comando Semmai Vabbè te l'ho fatto a te Ehm Però bisogna trovare Da mangiare Questo è il cazzo più grande Non è che possiamo morire sempre E perdere tutto Mh Almeno io Io mi insiedo qui Comunque Ci faccio La banco da lavoro E 4, 5, 6 casse grandi Perché ci sarà tanto da trovare Fai sulla mappa Prima il tasto M Per la mappa Intanto vedi Sulla mappa Puoi vedere già delle navi Da abbassare Ecco Allora Vai sulla mappa Prima il tasto M E clicca Col tasto destro Su dove stai tu E sei nel Il point Ecco Casa Il problema è che Non puoi fare il tp Con questa minimappa Quindi dovrei raggiungerla a piedi Ehm Ah quello non è un problema Eh si Non puoi fare il tp Perché è da abilitare Però Solo in single pay Te lo fa abilitare Quindi adesso mi faccio Un bel po' di casse Per non dire 50 casse O minimo Dopodiché Mi faccio un po' di attrezzi Mh Io intanto qua pianto Sì fai bene Non pianta troppi alberi Perché se no ci rompono casa Ok Mh 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 Per le attrezze Li faccio pure per te O ce le hai già Ce le ho già Ok Ho abbastanza legna anche per rifare Eh vabbè dai Facciamo una cosa veloce Che voglio andare a prendere Almeno qualcosa dalle navi Perché nelle navi possiamo trovare tanto Pronto Eh ma se killo Anzi Ho perso di nuovo tutto È vero Che non c'ho la cosa che Sì ma mi ricarico sempre di tre Mi ricarico Non mi ricarico Di assai Vabbè dimmi quando Andiamo Andiamo No andiamo Andiamo Ah aspetta aspetta Prendiamo le barche Dobbiamo andare Non ci possiamo fare un cazzo Aspetta No no Ascolta aspetta Vediamo quale barca Possiamo andare a prendere Quelle dei pirati che stanno qua vicino Dove cazzo si Ecco Quelle là Ne stanno due Ne stanno Una è piccolina E l'altra è semigrande Ci possiamo trovare forse Dei pirate boss sopra Perciò Ecco infatti stanno di dungeon Mo li dovrà caricare sicuramente Mentre vedo pure una nave enorme dei pirati là In fondo Ce ne stanno tre Minchia Allora E sta pure un castello È un castello sull'altra Eh infatti Eh sì Mo sicuro Se riusciamo a fare almeno due di tre steccose Ecco Dobbiamo uccidere tutti questi stronzi Aspetta 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 Scappa 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 No questi ci raggiungono con la barca Questi si buttano in acqua Ah intelligenti Eh sì Allora il problema è Ecco ora Ora io vorrei salire da dietro Così non ci vedono Anche se ci hanno già visto ormai Questo è morto Questo è morto Questo è morto No staffo Allora No ci voglio C'è il pirato Attenzione Attenzione Senti cerca di salire In qualche modo Però cerca di non farti colpire Eh vedo Sento che tu sbonni i tasti tipo Ti sento sbonnare i tasti Lo sai Eh lo so Eh lo so Eh lo so Eh aspetta sono quasi arrivato io Non morirmi Non morirmi Ti prego se no la roba la perdi Non morirmi Ah sono tutti nell'acqua Lasciali stare Lasciali stare Vieni da me È quello che sto cercando di fare Però io devo pure girare Ok ok Sì lasciali stare nell'acqua No perché il tipo Prendi la roba Prendi la roba che poi Devi spacca tutta la barca Sta qua sotto qualcosa sta Qualche cassa Eccola là Eccola là Ecco Qua ci stanno biscotti Qua ci stanno Come siamo adesso Come siamo adesso Non riusciamo a fare un cazzo Là è piena di roba Cioè là ci abbiamo già tipo armature in diamante Però il problema Aspetta che già sono morte questi stronzi Uccidiamoli da qua No questa è mia Ah ok Eccola Allora non voglio andare al castello Vorrei prendere questa barca qua Eccola qua E poi semmai eventualmente andremo al castello lì Che mi piace parecchio Già vederlo Allora qua i pirati non ci stanno Perché forse devono ancora spawnare Non so tu dove sia Però ti posso Sulle scale tipo Eh sì no Riesco ad uscire da sta barca non lo so che stanno pirati dovrebbero stare criticamente sento un po' di rumori di zombie però dovrebbe stare qualche dungeon e infatti stanno i dungeon qua sotto porca miseria, attenzione forse non sono ancora volendo li possiamo rompere forse perché non sono ancora sponati prima quello del creeper prima quelli dei creeper arriva lo scheletro bastardo perché mi passi da dentro madonna aiuto aiuto no non devo morire scappa nasconditi nasconditi dove sto io sta qua dentro spawnano ovunque spawnano dovunque uccidi mob spawner aiuto sei morto? no non ancora però ho un cuore no la roba tua mi sono preso aspetta che ti faccio il tp aspetta che ti faccio il tp così ti prendi la roba aspetta dobbiamo uccidere il mob spawner ai ma quanto cazzo è lento per uccidere tempo che ricarica no è vero qua stava l'acqua merda allora senti a me sali sopra sali sopra ti faccio fatto 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 ti sto dietro ti sto dietro ecco allora in pratica la cassa sta a quanto mi ricordo io da qualche parte nascosta nascosta a qualche parte però bisogna capire dove no ci sta per forza devi rompere un po' la nave ora se ci avevamo l'accelino la prendevamo a fuoco tipo stai morendo eh si si sono tipo bloccato dal vabbè si senti fammi fuori no 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 fermo lascialo la no no non devi morire niente questa è una nave di merda insomma non c'è non c'è no bisogna trovarla la cassa sta nascosta qua sotto inutile proprio mannaggia ah ma non è che sta là sopra eh può darsi eh no non c'è tanto non c'è sto con la opti no non c'è non c'è sto con la opti fine non c'è che ne dici raggiungiamo quel cazzo di castello là ok allora però tipo stiamo ooooh lo scherzo di merda no 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 se muoio so no la prendi la prendi se ci riesco la prendi tutto se ci riesco la prendo io però pronto col tp vai aspetta dove cazzo si aspetta aspetta sott'acqua stai maledetto no tutto mi ha preso tutto eh no ci muoio ci muoio no 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 ci muoio ci muoio no e si vabbè che cazzo mi sa che ci dobbiamo mettere la cosa per non perdere nulla ragazzi cioè perché almeno almeno qua non c'è ehi fatti il tp veloce eh se muoio io prendi la roba tua e viceversa così via almeno una spadina mi voglio beh no ma che cazzo senti facciamo così grammi rule keep inventory true non me ne frega un cazzo almeno no che cazzo ho fatto sono stato stupido perché che hai fatto? te ho teletrasportato e stavi raccogliendo la roba eh sì sono stato stupido eh non poco direi anche dobbiamo raggiungerla subito dobbiamo raggiungere tutto subito comunque dov'è che ho perso la roba? eh sì vatti a ricordare adesso tipo qua mi pare vabbè vai verso le parche vedo un po' di esperienza a terra sì 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 raccolgo un po' di roba eventualmente poi vieni tu vabbè tanto comunque non era per il fatto comunque della legna e delle spade giusto due cosine così per quella avevo trovato un po' di torce avevo trovato mi sbaglio mi ricordo male sì dai ora mi killo ora mi killo tanto mi killo tantino no ma anche mi hai fatto prendere la legna per un pochettino l'ho presa io mi sa no vabbè dai oh no sì io comunque lascio la roba qua a casa lascio un po' tutto eh fammi il tp allora ok ti faccio il tp vai ok no ho sbagliato va bene ci salutiamo lo stesso da qua sotto da là ragazzi per questo video è tutto grazie per la visualizzazione spero che il video vi sia piaciuto commentate se il video vi è piaciuto e se volete ancora questa serie la possiamo continuare mentre scendiamo in una voragine oddio ma io continuo io mi faccio male mi faccio aiuto e ciao a tutti ragazzi ciao 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 ciao